L'indiscrezione che circolava da giorni è stata confermata alle 19 di ieri sera. La deputata piacentina Elena Morelli della Lega ha richiesto e incassato il bonus da 600 euro destinato alle partite IVA e ai laboratori autonomi per l'emergenza Covid. Morelli è stata sospesa dal partito insieme al collega Mantovano Andrea Dara. Non hanno violato alcuna legge, ha scritto il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, ma è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura. Per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione. In base allo statuto della Lega la sospensione si può applicare fino a un massimo di 10 mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte. Va da sé che l'iscritto sospeso non può candidarsi con il simbolo in caso di elezioni. È possibile che nel periodo di sospensione Morelli e Dara debbano transitare nel gruppo misto. Morelli alterna l'attività di consulente in finanziamenti europei a quella di docente a contratto all'Università Cattolica. Nella Lega dal 2001 è parlamentare dal 2018. Lo scorso anno ha dichiarato un reddito di 106 mila euro. Dara è un piccolo imprenditore del settore tessile. Nel 2019 ha dichiarato redditi per 109 mila euro. Domani il presidente dell'Inps Pasquale Tridico parlerà in audizione e in videoconferenza alla Commissione Lavoro di Montecitorio.